Grazie Vinicio, avete già visto quelle che sono le affissioni che caratterizzeranno questa nostra campagna che poi viene declinata anche attraverso i social e verrà declinata anche su una serie di materiali cartacei che ci consentiranno di essere nei gazebo, nelle piazze, nelle prossime settimane. Perché l'obiettivo è quello di uscire dal palazzo con la necessità di tornare vicini ai cittadini e di portare la sanità vicina alle loro case. Ci vuole una sanità di prossimità, questa è la consapevolezza che è maturata, che è molto ben presente all'interno del PNRR e che caratterizza anche la proposta che in questi mesi il Partito Democratico in Lombardia è andato affinando. Vogliamo uscire dal palazzo perché in realtà abbiamo la brutta sensazione che la riforma della legge 23 del 2015, la legge Maroni, sia del tutto cucinata all'interno dei palazzi da parte di questa maggioranza. Noi vogliamo tornare a mettere al centro le persone e vi do anche un saggio e un'anticipazione di quello che viene proposto all'interno del sito che è collegato a questa nostra campagna, che riprende il tema delle affissioni e che poi ribadisce una cosa che è nella consapevolezza comune, anche se si sta un po' affievolendo probabilmente anche perché il tempo passa. Non è andato tutto bene in Lombardia e se con Covid non è andato tutto bene non è perché è arrivato solo uno tsunami, ma perché c'era un sistema sanitario che non era all'altezza di una sfida come quella della pandemia, a partire dal grande buco della sanità territoriale. E allora proponiamo alcuni slogan che però sintetizzano una visione diversa di sanità. Se ho un problema di salute devo sapere dove andare e avere qualcuno che mi ascolti. È un altro modo per dire che i cittadini hanno bisogno non di acquistare delle prestazioni, ma di avere qualcuno con cui poter parlare di quella che è la propria condizione e trovare una presa in carico. Essere curati deve essere un diritto e non un privilegio. Abbiamo una sanità in Lombardia che è eccellente per chi può acquistarsi i servizi. Non è però in molti territori una sanità universalistica. Basta attese infinite, la malattia non può restare in lista d'attesa. Quello che ci consegna la pandemia è anche un incremento mostruoso delle liste di attesa, perché sono state sospese le prestazioni non Covid e adesso abbiamo qualcosa come 4 milioni e mezzo di prestazioni in arretrato che vanno a prolungare delle liste d'attesa che già prima erano inaccettabili. E poi la prevenzione, grande scomparsa della sanità da formigoni in poi in regione Lombardia. Lo diceva Maiorino poco fa, la casa è il primo luogo dove essere curati. La domiciliarità, ne abbiamo parlato con un piccolo antipasto e molto parziale anche ieri in Consiglio regionale con una mozione sull'assistenza domiciliare per i minori. Il progetto però deve essere più ampio e organico e nel PNRR c'è un forte investimento sulla domiciliarità che va in Lombardia innalzata da un miserrimo quasi 3,5% attuale a oltre il 10%. Questo è l'obiettivo del PNRR che è particolarmente sfidante per la Lombardia. E poi medici e infermieri, di nuovo vicini a chi ha bisogno e ancora scorro solo velocemente senza dettagliare tutti i passaggi, case della comunità accessibili a tutti e sempre aperte, più servizi a casa delle persone, attenzione a tutti i territori, anche quelli più periferici. Non possiamo immaginare una sanità milanocentrica in Lombardia. Milano è determinante con le sue eccellenze, ma la Lombardia è molto più vasta. E poi una sanità privata al servizio del pubblico e non viceversa. Questo è uno dei punti cardine. Nessuna criminalizzazione, ci mancherebbe anche altro alla sanità privata che svolge un servizio, ma deve essere appunto un servizio per tutti i cittadini. Un servizio regolato da quelle che sono le esigenze di programmazione e pianificazione individuate dal pubblico. I privati non possono scegliersi i bocconi migliori della sanità, ma devono essere parte di un servizio sanitario. Non è un caso che noi, anche nelle affissioni, parliamo di ricostruire il servizio sanitario Lombardo, non il sistema sanitario Lombardo. Il sistema è quello in cui ciascuno si porta a casa quello che più gli conviene. Il servizio è quello che mette al centro i cittadini. Vinicio, mi fermerei qui perché avremo tante altre occasioni di approfondire. Questi sono un po' i punti fondamentali che sono all'interno del documento su cui sta lavorando il Partito Democratico Lombardo e il gruppo regionale e sono anche i contenuti principali che i cittadini troveranno in tutto il materiale che porteremo a loro nelle prossime settimane.